Calcolare i vani di un immobile è essenziale per arrivare alla consistenza catastale, che poi determina la rendita, il valore catastale e quindi le tasse che dobbiamo pagare sul nostro immobile. Questo vale per le unità immobiliari a destinazione abitativa. L'unità di misura è il vano utile, etto come camera da letto, salotto, stanza da pranzo o cucina. Abbiamo poi altre due tipologie di vani. I vani a destinazione accessoria diretta, che sono quei vani che fanno effettivamente parte della casa, sono necessari per sfruttarla a pieno, ma non sono un vano utile. Per esempio corridoi, bagni, ripostigli. Il terzo e ultimo tipo sono i vani accessori indiretti o complementari. Sono dei vani che non fanno parte direttamente dell'abitazione, ma ne completano, quindi sono complementari. Quindi rientrano in questa categoria le soffitte, le cantine, i depositi, i garage, per esempio. Per andare a calcolare i vanni utili di un'abitazione, dobbiamo quindi andare a fare una semplice somma. Il vano utile, quindi camera, soggiorno o cucina, vale 1. Il vano a destinazione accessoria diretta, corridoio, bagno o ripostiglio, vale 1 terzo, mentre i vani a destinazione accessoria indiretta o complementare valgono 1 quarto. Ma facciamo un esempio per capire meglio la situazione. Prendiamo questa planimetria. Abbiamo un soggiorno, una cucina, un bagno, un ripostiglio, il disimpegno, lo studio, due camere e un piccolo WC qui in basso. Andiamo a calcolare i vani utili. Allora abbiamo sicuramente 4 vani pieni, utili, che sono il soggiorno, la cucina, la camera e la seconda camera. Quindi partiamo da un conteggio di 4. Abbiamo poi dei vani accessori diretti, fanno parte direttamente dell'immobile. Il bagno, il ripostiglio, il disimpegno e il secondo WC piccolo in basso. Ognuno di questi vale un terzo, quindi ai 4 vani dovremmo sommare un terzo per il WC, un terzo per l'altro bagno, un terzo per il disimpegno e un terzo per il ripostiglio. A questo punto rimane fuori solo questa stanza qua, che qua viene chiamata studio. Ora qua la situazione diventa un pochino più complicata, ma a mio avviso questo spazio qui deve essere considerato comunque come un vano a destinazione accessoria diretta. Perché? Perché non può essere destinato a camera, perché non ha la superficie adatta, nemmeno a soggiorno, tanto meno. E oltretutto è una zona di passaggio, quindi si passa attraverso questa stanza per arrivare nella camera. Per questi motivi lo considererei un vano accessorio diretto e quindi da sommare un altro terzo al conteggio dei vani. Quindi ai 4 vani utili pieni che abbiamo calcolato inizialmente dobbiamo sommare un altro vano utile, perché andiamo a fare un terzo più un terzo più un terzo, ok? E poi restano fuori altri due terzi, il disimpegno e lo studio. Quindi dobbiamo aggiungere a 4 vani un altro vano, andiamo a 5, più altri due terzi di vani, quindi andremo a 5 vani virgola 66 che vengono arrotondati a 6 vani. Quindi possiamo dire che il nostro appartamento è di 6 vani. Spero che questo video possa essere utile per calcolare i vani di un'abitazione che vuoi comprare oppure della tua casa. E noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!